amici sportivi di b press sport news eccoci qui da francesco casicci e mario cardone per raccontarvi quello che è stato il weekend legato al punto 21 e 22 marzo andato in scena e quindi archiviato da poco allora è una puntata incentrata come sempre sul calcio dilettantistico quindi dall'eccellenza alla prima categoria vi faremo un po un excursus sempre in compagnia come detto poc'anzi di mario cardone che saluto subito ciao mario ciao francesco adesso ci occupiamo dei nostri soliti temi che testimoniano sostanzialmente due cose che abbiamo un grande amore per il calcio dilettantistico e anche del tempo da perdere comunque assolutamente ma del resto tu sotto questo punto di vista non sei secondo nessuno e mario allora andiamo a sciorinare quelle che sono le tematiche emerse in questo weekend e avevamo tante cose da dire che probabilmente in un quarto d'ora e poco più forse faremo fatica anche a raccontarvi allora non perdiamoci nelle chiacchiere e parliamo di quella volata che sembra mettere la freccia direzione scordia verso siracusa perché lo scordia ha sorpassato la squadra retosea ti prego mario di raccontarci che delusione stanno provando i siracusani perché il siracusa è una di quelle piazze che fa calcio ha fatto calcio storicamente lo scordia invece sembra il calcio nuovo no che avanza una vittoria importante quello dello scordia a castelbuono una sconfitta importantissima quella del siracusa a barcellona pozzo di gotto faccio un gioco rapido non vorrei essere avrei voluto essere non vorrei essere anastasi in questo momento perché rischia seriamente di essere quell'allenatore che non ha portato il siracusa in serie d con mascara in squadra e non deve essere bello avrei voluto essere al dal contres di barcellona pozzo di gotto all'ottantanovesimo uno stadio con mille spettatori che in eccellenza non si vedono spesso biondo segna lo stadio esplode per il siracusa una grande tristezza per il gioia virtus è una grandissima vittoria come vi abbiamo anche spiegato nella passata puntata passa avanti lo scordia non è tutto finito anche perché la vittoria a castelbuono è preziosa il mister della squadra avversaria mutuo ha detto sì loro grandi però noi forse un po demotivati le squadre motivate arriveranno il cittadino messina appunto l'igea quindi non è ancora chiuso il campionato ricordiamo mario che proprio la scorsa settimana avevamo illustrato quello che poteva essere il calendario prossimo delle evidentemente due giornate che mancano alla conclusione l'igea virtus dovrà andare sempre in casa come detto al dal contres ad ospitare lo scordia e chissà che magari lo sgambetto stavolta lo possa offrire alla squadra di natale serafino chiaramente che faranno gli scongiuti giocherà solo per vincere la squadra giallorossa mi ricordo a giarre novi io vi dì in quel periodo giarra e già virtus i tifosi seguirono la squadra erano motivatissimi e cantavano appunto l'igea portarci via da questa categoria però il complemento di specificazione ve lo risparmio perché non è carino attenzione poi tra l'altro questo è un canto che è espresso ed esprimibile a tutte le piazze che fanno calcio dilettantistico ho sentito svariate volte in tutti i campi della provincia sicula allora ti chiedo l'igea virtus farà i playoff li farà i playoff anche il milazzo invece non li farà la cireale e tra poco parleremo di quello che sta succedendo ai cari amici di acireale che ci ascoltano perché un putiferio un putiferio con il regionale di giarre che era risultato sette volte beh allora diciamo un paio di cose mi prendo un minuto perché voglio provare ad arrivare al punto se ci riesco non ho trovato positivo al termine adesso che siamo giunti proprio alla fine di questo di questo tragitto non ho trovato molto positivo il messaggio che ha lanciato la cireale a partire dalla settimana scorsa nel post gara di acireale milazzo perché perché dal punto di vista da un punto di vista puramente simbolico quando perdi di fatto l'opportunità di agganciare il milazzo e poi di sera vai a chiedere intendo parlo della diligenza e dei calciatori a vicepresidente scuderi di rispettare il patto stai facendo una cosa giusta perché i patti si rispettano però io potrei capire da fuori che tu stia cercando un po una scusa o comunque un movente nel cercare di giustificare un piccolo fallimento sportivo perché ripetiamo la cireale quest'anno non giocava per vincere giocava per consolidare e c'era riuscito veniamo adesso alla seconda parte del discorso molto lunga molto articolata ti faccio un anticipo io anche a tutti i nostri follower salta il banco anche dell'allenatore ricca salta probabilmente anche il banco di molti giocatori senior di questa cireale granata che evidentemente farà le ultime due partite non si sa come si senatori non giocheranno più quest'anno è una decisione assennata perché adesso la cireale giocherà al tuparello contro lo sporting via grande sicuramente ci saranno grandi fischi grande contestazione perché se noi partiamo dal presupposto che la cireale è una squadra di calcio non ne usciamo la cireale è per i tifosi che idealizzano la propria squadra del cuore un vero e proprio simbolo di quello che significa essere acesi che è diverso da essere già resi essere catanesi andate a dire come vi ho detto qualche settimana fa un acese che è un catanese non lo è è uno stato mentale particolare quando non si rispetta questa condizione e salvo ricca lo sa benissimo perché si è dimesso non ha si è dimesso e non perché si vergognava non voleva essere esonerato perché lui è il primo tifoso il primo che sposa e conosce questa mentalità però io ti chiedo una cosa mario almeno cerchiamo di estrapolare un concetto possibilmente anche fruibile alla massa critica ma una squadra che è quinta in classifica che ha disputato un campionato sempre nella colonna sinistra tendente a qualcosa in più cioè il playoff o anche il salto di categoria perché deve andare così tanto in impasse beh secondo me proprio perché c'è stato qualcuno tutti quanti ragazzi in primo luogo hanno staccato la spina in secondo luogo non hanno capito che cosa vuol dire vestire quel tipo di maglia in un'altra piazza avresti anche potuto perdere in questa categoria con questo punteggio visto anche 13 a 2 9 a 4 ma la ciriale non lo puoi fare se non lo capisci non puoi giocare nella ciriale molto semplice mario la domanda comunque quella di prima è ancora buona l'ige virtus farà scattare i playoff beh a discapito come facciamo a dire a discapito dello scordia campione di girone forse sì però onestamente io non te lo so dire francesco direi che è una domanda che possiamo poi rimandare tra 21 giorni perché ci sarà poi la pausa evidentemente legata alle festività pasquali cambiamo argomento e andiamo alla promozione girone c sempre quell'area regionale ascrivibile al messinese dove il tre castagni invece fascia etnea sta sorprendendo perché l'abbiamo direi anche un po sbugiardata ne avevamo parlato anche in seno alle vicissitudini che erano si erano relazionati appunto i colori giallo blu ne avevamo parlato male ora c'è un progetto giovani e c'è anche il playoff sì c'è un certo alfredo cavallaro che da 17 anni ha segnato una doppietta decisiva sul campo dello ionica o della ionica non saprei come l'articolo in questo caso è finita 3 a 2 per gli etnei che non usciranno mai più o mai dai playoff quindi in un modo o nell'altro li giocheranno sono rimasti pochi senatori rimasto suriano curcuruto c'è capitano balsamo poi ci sono caruso trepa esatto e poi ci sono ragazzi come dal rigo e giardina che sono juniors ma appartengono al gruppo dei grandi insomma una parvenza di squadra titolare diciamo che è rimasta anche se lo scheletro è stato abbastanza diciamo dissestato dai cambiamenti che conosciamo comunque playoff questa squadra li farà il troina però ha troppo entusiasmo in questo momento per per perdere contro chiunque troina che ha battuto tu mi dai sempre degli assist al volo io li sfrutto troina che ha battuto in casa la spadaforese che a questo punto ha ancora due opportunità contro la promen e poi un'altra partita per cercare di arrivare in quel famoso quarto posto anche se attualmente ripetiamo ci sarebbe soltanto il playoff tra tre castagne promen deve vincere lì in casa dei nerazzurri poi deve affidarsi alla differenza reti che è il secondo criterio discriminante vedremo come andrà ma non la vedo troppo bene per la spadaforese mentre c'è una piccola minuscola speranza non ne parliamo mai perché le abbiamo dati per spacciati da mesi ma c'è il san filippo del mela che se vince due partite giocherà contro il san gregorio tu ti occupi spesso di san gregorio c'è un rimescolamento delle carte pazzesco perché mario già retrocessi a c san filippo e randazzo o meglio randazzo ancora no il san filippo del mela può ancora disputare i playoff e play out perdone e metterebbe proprio in crisi attualmente il pistunina il pistunina giocherebbero le due squadre contro quindi se il pistunina perde contro la c san filippo vedete sì vabbè però potrebbe anche succedere e il pistunina non vince da dieci partite quindi non è che sia una squadra formidabile in questo momento allora il san filippo avrebbe l'opportunità di rientrare nel discorso play out e giocare anche se col fattore campo avverso il primo turno direi che quindi c'è uno scenario ancora aperto a qualsiasi tipo di risultato quindi play out di questa promozione girone c cambiamo versante invece andiamo al girone di quella della promozione di un campionato avvincente probabilmente sino all'ultimo turno di gioco con la sicola leonzio che regola il pacchino con il punteggio di 2 a 0 con le reti al primo minuto di carbonaro e poi di david erdizzone l'atletico gela che però resta ruota a ruota il gela è riposato il palazzolo ha vinto in poche parole l'unica a non ridere in questo campionato almeno delle alte sfere è l'atletico catania altra storia di passione fuori dal comune quella dell'atletico catania sull'atletico catania ho dei dati che secondo me sintetizzano abbastanza bene l'insuccesso di quest'anno perché io li ho visti giocare in settimana contro la libertà se non mi sono dispiaciuti perché tecnicamente ci sono il punto è questo l'atletico catania ha vinto le medesime partite del palazzolo che in questo momento partecipa ai play off ovvero 12 il problema è che mentre il palazzolo ne ha perse 5 l'atletico catania ne ha perse 11 non ci sono filtri o si vince o si perde ecco questa mancanza di mezze misure che può essere interpretata è nella pressione che i giocatori hanno che devono sempre dare il massimo devono sempre vincere ma anche non saperle gestire determinati momenti perché per esempio qualche pareggio in più ti sarebbe tornato utile stavi pareggiando con stanta croce poi l'ottantanovesimo hai subito il gol di lavaccara e quindi c'è questo è una squadra discontinua dal momento che segna moltissimi gol ma ci sono volte che segna 7 gol in una partita a volte ne segna 5 e poi per 8 volte in questo campionato non è andato non è andato a segno insomma non è una squadra molto continua questo è il punto no mario confermo quello che dici l'atletico catania ha rimescolato le carte probabilmente in maniera completa tra il girone d'andata e il girone di ritorno qualcosa sembrava fosse riuscito poi però hanno perso soprattutto in questo mese cioè il mese clou con l'eliminazione della coppa italiana ma ancora prima partite importanti probabilmente quella bussola che gli consentirà la squadra di franco proto di partecipare al prossimo campionato d'eccellenza che in fin dei conti al pari di palazzolo santa croce ragusa era un obiettivo santa croce escluso che ancora può arrivarvi tutte queste hanno completamente fallito parlo di ragusa palazzolo ancora no ma non è sicura la partecipazione playoff non è sicura perché bisogna sempre mantenere il distacco corto rispetto all'atletico gela che è lanciatissimo verso questa lotta importante per il primo posto con la sicula però la prossima settimana come abbiamo detto ci sarà il derby con il gela e ne parleremo approfonditamente nel corso della prossima puntata magari che dici mario assolutamente d'accordo l'ultima citazione perché in play out c'è una bagarre pazzesca al momento sport in priolo fuori dalla dai play out sport imbattiati che emerge in una maniera notevole esatto esatto i punti sono 22 per entrambe le squadre e il fatto è questo che essendo pari negli scontri diretti si va a guardare la differenza reti e in questo caso c'è un meno 18 contro un meno 30 dello sport imbattiati che chiaramente penalizza gli ultimi che vi ho detto adesso che cosa succede che il battiati però la prossima settimana va a giocare contro il macchitella gela è una partita fuori casa ma il macchitella diciamo che un po più tranquillo rispetto al santa croce che deve che deve che il prossimo avversario dello sport in priolo e deve difendere comunque il suo quarto posto quindi è una cosa è una salvezza possibile per il battiati e vi ricordo che entrambe le squadre finiscono il campionato alla prossima giornata perché riposano insieme all'ultima quindi sarà sicuramente una bagarre notevole vediamo chi si salverà delle due chi non accederà ai play out perché poi è un ternalotto perché paghino comiso ricordiamo poi a bel vedere città giardino prossimo avversario della sicura leonzo a siri acusa sono squadre che faranno i play out però commetto che in gara secca non daranno partita facile ad alcuna squadra invece tocchiamo la prima categoria campionato che praticamente è stato virtualmente vinto dall'adrano calcio che ritorna nel prossimo campionato di promozione a meno che perda due partiti allora la società di alessandro messina dario pulia zignale bua faranno ovviamente i debiti scongiuri ma al di là di questo è praticamente cosa fa sì dell'adrano ci parli tu chiaramente perché tu li conosci molto meglio di me la bagarre interessante è quella che avviene dal secondo posto in poi perché arrivare secondi terzi o quarti fa tutta la differenza del mondo perché assegna sia avversario che fattore campo ricordiamo si gioca un turno e la squadra che avanti in classifica non solo gioca in casa ma anche due risultati a disposizione che più vantaggio di così penso che non si possa immaginare allora mario se io parlo dell'adrano tu mi parli della russo san sebastiano ce la farà superare il milo ricordiamo che il milo andrà al san gaitano di bel passo tra 14 giorni meglio tra 21 perché c'è sempre quella famosa giornata di di sosta quindi secondo te come la vedi questa corsa al quinto posto è importantissimo questi hanno cominciato a vincere anche fuori casa da qualche tempo quindi hanno tutte le carte in regola tra l'altro giocheranno contro real tre mestieri che non è proprio la miglior squadra del campionato e contro il cittadino scaluccia avversario comune con il milo potrebbero farcela perché insomma il milo ha dato da pensare in quest'ultimo periodo ha segnato anche il dumitrascu sul rigore mi veniva in mente nella russo calcio un ragazzo che ha avuto dei problemi al ginocchio l'anno scorso giocava con ormai defunta fiume freddese anche gloriosa perché aveva fatto molto bene esatto e adesso ha segnato e ha continuato a segnare durante quest'anno insomma si è comportato bene e in prestito dal giard se di prestito si può parlare e mario chiudiamo con il girone g del campionato di prima categoria con il sorpasso proprio in seno al comando di questa testa che adesso è guidata dalla real città di paternò sul megara evidentemente dietro ti chiedo questa lotta che coinvolge anche i lineri di mister garofalo se ancora affascinante mister garofalo che ha dichiarato in conferenza stampa che è un momento di crisi perché c'erano momenti in cui l'ineri vinceva anche se non esprimeva un calcio straordinario adesso il calcio arriva ma non arrivano più i risultati e certo però col palagonia si poteva un po' evitare di perdere in casa tra l'altro con gli avversari che sbagliano un rigore che poi vanno sotto di un uomo insomma è stata una partita un po' negativa e sfortunata per i ragazzi dell'ineri che hanno un vantaggio rassicurante sulla militello però a questo punto salutano penso anche l'opportunità di raggiungere proprio il palagonia che ha più 5 quindi per fare i playoff con una squadra buona perché state in classifica praticamente al comando per tutto il campionato quale il megara augusto insomma è interessante anche la lotta tra megara e real paternò perché sono due squadre molto diverse e la quinta classificata ovvero l'ineri prenderà una vera e propria regina di questo campionato il real paternò pensate che ha segnato più di 20 gol in più al megara che è il secondo migliore attacco ma è anche la quinta peggior di festa del campionato avendone subiti 20 di più rispetto al suddetto megara insomma una squadra zemaniana se possiamo dire così si divertiranno evidentemente a paternò per rivivere i fasti di quello che è stato invece il paternò glorioso alla falcone borsellino allora di paternò però citiamo enzo tornatore un ragazzo che gioca nel paternò a vittoria non se l'è vista bene perché nel sottopassaggio è stato aggredito c'è stata una lista pazzesca e ne avete sicuramente sentito parlare lui ha riportato noi abbiamo volutamente evitato di parlarne 14 espulsioni due squadre che non porteranno punti a casa le ha portati purtroppo tornatore a cui facciamo gli auguri di buona guarigione bisognerebbe sensibilizzare il mondo dello sport perché troppe partite sospese troppe partite con risse mario non se ne può più va un calcio inguardabile dal momento che per esempio allicata vediamo dei giocatori di trapani che non si presentano nel secondo tempo perché minacciati la partita in settimana tra cus che della passata settimana tra cus palermo e rocca di caprileone i ragazzi di rocca di caprileone perdono si 4 a 0 però poi vengono accompagnati a casa da 25 poliziotti perché non sono stati anche loro intimoriti e minacciati oltremodo vabbè che calcio è questo vi chiedo ma la risposta ve la date da soli ma noi avevamo sensibilizzato l'argomento chiedendo proprio alla presidente della fgc sicilia santino lopresti il quale ha detto poi per tutto punto che farà il commissario di campo in maniera quasi stigmatizzante perché la violenza va assolutamente deprecata e combattuta e auguriamo il presidente lopresti di farcela non solo diplomaticamente mario saluteremo la prossima settimana il mese di marzo poi ci tufferemo per l'ultima giornata di campionato anche se noi ovviamente vogliamo anche commentare poi giudicare i playoff e playout perché poi sarà un altro piccolo campionato tutto concentrato praticamente in un'unica settimana salutiamo quindi mario questa terza puntata di b press sport news una buona serata a tutti e restate connessi grazie a tutti Grazie a tutti.